Empoli-Salernitane è già una sfida per la salvezza, nonostante siamo solo agli inizi della nuova stagione sportiva. Questo pomeriggio alle 18.30 le due squadre si affronteranno, con i Toscani che non hanno ancora fatto un punto e non hanno nemmeno segnato un gol, e i Campani, reduci da tre pareggi consecutivi con delle prestazioni sotto tono. Certamente in casa Granata ci si augurava una partenza lanciata e invece il Marco Altento cresce con il Mr. Sousa sotto pressione. Oggi ad Empoli il tecnico portoghese non potrà concedersi altri passi falsi e deve per forza ottenere la prima vittoria stagionale per cambiare rotta. Per far sì che ciò accada c'è necessità che l'allenatore ritrovi tutte le componenti a partire dall'attaccante di A che sembra poter essere a disposizione per la gara di oggi, ma non dal primo minuto. Una situazione apparentemente rientrata con l'attaccante che avrebbe trovato un nuovo accordo con il club per la sua clausola rescissoria. Fatto sta che Sousa, al di là dell'attacco, deve guardarsi bene anche in difesa. I dati del reparto sono negativi, visti 9 gol subiti, di cui molti da calcio da fermo. Un aspetto a non sottovalutare con il tecnico che potrebbe anche proporre dei cambi nel reparto arretrato, visti il rientro di Daniluic dall'infortunio già in panchina nella scorsa gara contro il Frosinone. Ipotizzabile un suo utilizzo al posto di Lovato, ecco quindi che Ochoa andrà a sistemarsi tra i pali. In difesa con il probabile inserimento di Daniluic dovrebbero scendere in campo Pirola e Guionberra. A centrocampo, Legoschi e Martegani andranno a comporre i centrali della linea mediana, con Mazzocchi e Braderic che verranno confermati sulle fasce. Sulla tre quarti invece ci sarà Antonio Candreva con Castanos, a supporto dell'unica punta che sarà Cabral nelle vesti di Falso 9, con Dià che potrebbe subentrare a gara in corso. In casa Empoli, con le sonne rodizzonetti dopo la sconfitta contro la Roma, Andrea Zoli ha mostrato uno spirito diverso della squadra nella gara contro l'Inter. Il tecnico, il primo a subentrare in questa stagione, dovrebbe optare per Beriscia tra i pali. In difesa Ebwe e Pezzella, come esterni Valu, Chievic e Luperto come centrali. Il centrocampo sarà composto da Marin, Ranocchia e Malè. Sulla tre quarti il giovane Baldanzi che sarà a supporto a Spendi e Cambiaghi.